Ah, un gol su rigore ogni tanto, poi meno male che era immobile, eh, Ciro immobile sempre su rigore, solo su rigore. Di Ronaldo questa cosa non la sento mai dire, però va bene, i rigori c'erano, Juve che come da me, vabbè, pronosticato ma a parte che ci voleva poco oggi, anche se la Juve quest'anno ci ha abituati ogni tanto a qualche passo falso, vince, oggi ha vinto contro un Genoa, ragazzi, che per me non è un brutto Genoa, cioè, per l'assenza che ha, per la situazione in cui è, è un Genoa che comunque oggi il campo l'ha tenuto abbastanza bene, è riuscita anche nell'unica azione che ha fatto, perché poi bisogna dire, il Genoa ha fatto poco, si è difeso bene, nell'unica azione ha fatto un gol con un Sturaro, ragazzi, che ha fatto un gol veramente bello, Sturaro è un ex, assist di Pellegrini, quindi due ex, poi Pellegrini mi sembra sia di proprietà della Juve, quindi addirittura, però Sturaro non è una novità, è questi gol, perché non è, diciamo, un incontrista, però è uno che ha anche doti di inserimento. Comunque, Juve che ha, Pirlo ha provato a sperimentare questo 4-4-2 con Di Bale e Ronaldo in attacco, per me non ha funzionato, cioè, sì, Ronaldo e Di Bale hanno segnato, e va bene, l'avversario era modesto, ma mi avviso la mancanza di un riferimento, una punta vera, tra l'altro che sta facendo molto bene, come Alvaro Morata, si è sentita la mancanza, in effetti, però, diciamo che per oggi l'avversario era quello che era, la Juve comunque ha interpretato bene la partita, primo tempo un po' soporifero, però la Juve era lì, secondo tempo l'hai sbloccata con un gran gol di Di Bala, molto bello, un'azione, diciamo, personale, tiro sul primo palo, che non è una novità, perché Di Bala, se ricordate, spesso la chiude sul primo palo, non è la prima volta, e poi due rigori, cioè, c'è stato poi appunto il gol di Sturaro molto bello, perché non era facile col piattone sul secondo palo, e poi, questi due rigori di Ronaldo, il primo su Quadrado, che c'era, c'era assolutamente, lì, purtroppo si è fatto superare, Quadrado lo sappiamo, dribbling così, ti brucia, mi ricordo anche l'anno scorso, forse col Torino, si guadagnò un rigore in quel modo, e poi, il secondo è clamoroso, cioè, io tra l'altro, Ronaldo, in un Fanta ce l'ho, e in un alto ce l'avevo contro, quindi ho detto, speriamo faccia un gol, ma non più di uno, invece ne ha fatti due, praticamente, al novantesimo, quindi ormai la partita era compromessa, perché il Gena non aveva la forza di provare a rimontare, erroraccio di Pellegrini, che fa un passaggio all'indietro, e Perin commette fallo, però lì, povero Perin, non poteva farci nulla, quindi Ronaldo, che intanto insegue Ibra, nella classifica Cannonieri, e Juve, che, forse, per la prima volta in questa stagione, riesce a dare un po' continuità, sia alle prestazioni, soprattutto ai risultati, ovvio, oggi bisogna considerare l'avversario che era modesto, però, ecco, ripeto, il Gena di Maran, secondo me, contando le assenze che ha, e tutta la squadra che ha, perché è una delle più scarse della A, io inizio a non la pronostica A in B, non sta facendo male, c'è una squadra comunque abbastanza solida, oggi qualche ingenuità l'abbiamo detto, il secondo rigore è regalato, la classifica piange, si parla di un esonore di Maran, il solito Ballardini, no, che va sempre, diciamo, a riparare i danni che fanno gli altri, no, in quest'ultimo decennio al Genoa, la classifica piange, perché il Crotone intanto accorcia, 5 punti, Genoa 6 punti, Torino 6 punti, e comunque troviamo la Fiorentina con 9 punti, lo Spezia, quindi c'è già un po' un piccolo divario tra le ultime 3, che io ci metto anche la Fiorentina, diciamo che Fiorentina, Torino, Genoa e Crotone sono quelle che al momento stanno facendo peggio, poi sappiamo che la Fiorentina e il Torino, come Rosa, sono nettamente superiori, ma al momento stanno deludendo, guardando la classifica della Juve, ragazzi, potenzialmente è a meno 6 dal Milan, perché il Milan mettiamo che stasera vince, che è probabile, la Juve a meno 6, quindi in linea con le aspettative, nessuna sconfitta, è questo da sottolineare, ed è la migliore difesa insieme al Verona, e segna anche abbastanza la Juventus, più, diciamo, 2 gol a partita, non tantissimo, però 9 gol subiti, questa è una cosa indicativa, l'anno scorso la Juve ha vinto lo scudetto subendo più di, mi pare, una quarantina di gol addirittura, 9 gol in 11 partite, è sintomo che la Juve con De Ligt soprattutto, da quando è rientrato De Ligt, subisce poco poco, perché poi anche oggi, a parte l'occasione di Sturare, è stata l'unica, quindi è una Juve che a differenza magari di Inter, Napoli, è molto solida dietro, anche il Milan, è 9 gol, quindi Milan, Verona e Juve le migliori difese, quindi ecco, la Juve, secondo me, può solo che migliorare, come detto, rimane la mia favorita per lo scudetto, in questo momento, insieme al Milan, che sta dimostrando qualcosa in più, ma occhio all'Inter, perché giocando una partita a settimana, è ovvio che sei favorito, no? Va bene, allora ci vediamo dopo col Milan, like al video, iscrizione al canale, bella!